Con i rettangoli di carta in luogo dei vetri, il Giappone d'oggi ha conservato ancora il suo volto tradizionale. La donna riceve in ginocchio il sopravvito e il cappello del suo signore e si siede al tavolo del tè soltanto quando questi la invita. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.